Quando lavoro e passione sono l'unica cosa, quando i tuoi amici sono anche i colleghi di tutti i giorni, quando hai il solo bisogno di una pausa, Liomatic è con te, sempre. Liomatic, distribuzione automatica di alimenti e bevande. Luigi Bacchi Iveco e SpecialDiesel.com, veicoli industriali nuovi ed usati, con le strada Perugia. ICT Valle Umbra, internet più veloce in Umbria, www.ictvalleumbra.it 100% Umbria, 100% qualità della vita, gruppo Grifo Alimentare, compra prodotti Grifo, fai crescere l'Umbria. ICT Valle Umbra, internet più veloce in Umbria. Ci troviamo in piazza del comune ad Assisi, alle mie spalle la parte del sotto sta ancora festeggiando perché ha conquistato l'ambitissima tripletta. Tre vittorie consecutive in tre anni, il 2015 era atteso proprio per tornare a vincere, come ci aveva spiegato il priore maggiore Massimiliano della Vedova, in una delle puntate di avvicinamento al Calendimaggio e sempre la parte del sotto aveva conseguito per la prima volta nella storia del Calendimaggio, la medesima tripletta nel 2010. A questa vittoria si è arrivati attraverso quattro giorni di sfide ma oggi vogliamo riproporvi l'ultimo giorno di sfide, quello dei Cori e poi siamo stati nella piazza, abbiamo vissuto l'entusiasmo dei partaioli del sotto ma abbiamo anche sentito la voce dei giurati che hanno dato il loro appunto giudizio di merito sulle prestazioni per la scenografia, per la regia, per la recitazione e per sia le scene che i cortei ma anche per i Cori, determinando dunque la scelta della vittoria per la parte del sotto. Dunque non resta che augurarvi buona visione. Fa il suo ingresso nella piazza il maestro di campo, accompagnato dalla regina della festa, Madonna Primavera, Monna Chiara Raffetti. Grazie. 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 Notte. Madonna, Messeni, Centne di Ascesi, Centili Ospiti, il colteo del giorno ci porta al Epilogo, nella notte, l'Acunato Verde. L'idea di un singolo o di un piccolo gruppo, espressa in embrione nelle lunghe serate d'inverno, nel tempo, ha preso lentamente corpo nella sua estensione, completezza e esecuzione sin nei minimi particolari. Ecco spiegata la continua ricerca dell'acromia, dei costumi, lo sveltonio incessante delle bandiere, il ritmo coinvolgente dei musici, la danza corale dei figuranti, il dinamismo travolgente dei partaglioni nell'incantevole scenario della nostra piazza. Obiettivo unico? La vittoria. Non c'è alternativa. Ai giudici l'altro compito. Dopo il corteo, con la sfida notturna e calora, la nostra festa andrà a compimento. A noi ora la gioia di restare ancora per poco nel sogno del calendimagino. Madonne e misterie. Gente della parte alta, nobile gente, gente mia. Con l'adrenalina che sale a mille e il cuore che batte forte, forte, per un'autentica emozione, si appresta a fare il suo ingresso nella piazza, la nobilissima parte da sopra. Unità, nobile gente, non entro, non passo, adesso. Non vado nel vero, non vado nel vero, non vado nel vero, non vado nel vero, non vado nel vero. Io sono la piazza. Io sono la piazza. Io sono la piazza. Eccolo qua! 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 Grazie a tutti. 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 Di qui. a tutti. 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 sull' a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. no. a tutti. 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 io. es. a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. è andata. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.